Buongiorno a tutti, oggi è finalmente lunedì di nuovo, è il 21 agosto, sono le ore 10 e vista la problematica grossissima con Evergrande stiamo salendo tanto, 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 stiamo rimbalzando come da aspettativa e quindi come di consueto il suggerimento è soprattutto per le persone nuove che non hanno mai incontrato ancora questo canale, non ascoltate tanto le news, non è che servono a molto, arrivano in ritardo oltretutto rispetto a quello che poi succede sui mercati per cui è vero che non abbiamo ancora violato swing di particolare importanza, però capite bene che cosa è successo per far rimbalzare mi bedax in questo modo, ecco a noi non interessa la cosa più bella è che a noi delle opinioni non interessa su questo canale, perché sappiamo bene quanto vale l'opinione di una persona che per esempio magari non sappiamo neanche chi sia che cosa faccia, che cosa faccia di mestiere, se lo faccia bene, se sia un esperto, non ci interessa allora, a noi interessano i grafici, i grafici parlano molto, in maniera molto più esplicita se li si sa leggere rispetto alle notizie siamo a 26 bar di inverso, ok? ottavo, t-3 inverso, su minimo 21 se parliamo di DAX, quindi abbiamo già una condizione di discesa ma, allo stesso tempo, che cosa? ma allo stesso tempo possiamo continuare a salire fino alla 44esima bar e arrivare eventualmente fino a qua soprattutto, se iniziamo a superare determinati swing, come vi dicevo nelle analisi del weekend andate ad ascoltarle, perché qui c'è soltanto la parte a 15 minuti lì si parla anche di cicli superiori, ok? andate ad ascoltarle perché inquadriamo nel weekend cosa può succedere e poi magari succede pure, ok? per questo motivo ricordiamoci anche che siamo all'ottavo t-3 inverso che se ci dovesse essere un pochino di ritracciamento valuteremo se andare long o meno, ok? perché sappiamo che questo, questa piccola questo bel rimbalzo corposo targato over grand ok? può essere foriero o soltanto della partenza di un nuovo settimanale oppure di qualche cosa di più magari di un mensile per quello, in base appunto ai massimi che noi chiamiamo swing che andremo a violare sapremo, ok? se c'è una ci sarà una partenza più corposa che ci riporterà verso almeno questi livelli, ok? oppure no, anche perché anche a livello, a questo punto, di rimbalzo, ok? noi abbiamo la condizione necessaria e sufficiente fatta in questo preciso istante adesso con questo rimbalzo per la chiusura di un bisettimanale inverso e quindi poi si rischia di tornare a scendere per questo motivo attenzione tra oggi e domani a quanto corposo sarà il rimbalzo quali swing verranno violati e tutto il resto ovviamente nel gruppo premium avremo un vantaggio più alto rispetto agli altri perché avremo anche i livelli di algoritmo questi livelli magari sono sottovalutati dai più perché tutti parlano di determinate altre cose anche del tecnica 2 nuovo che effettivamente è interessante ma bisogna saperlo gestire ma i livelli di algoritmo in realtà sono una delle cose più utili che ci sono all'interno del gruppo premium perché? perché ci dicono insieme al tempo fino a quando si può salire o scendere e quindi iniziano a mettere un take profit quando vengono raggiunti come target dati per ogni trade che viene fatto noi sappiamo poi se si continua a salire o se si continua a scendere fino al prossimo livello qual è il prossimo livello di prezzi che si può raggiungere oltre a quello già raggiunto e quindi ci permette di spostare i take profit e continuare a portare a casa più guadagno rispetto a quello che magari appunto è già iniziato ad entrare nel nostro conto per quanto riguarda appunto come detto DAX ok? bella spinta di partenza ma violazioni di swing particolari no abbiamo richiuso il gap down che c'è stato di venerdì ok? chiuso perché l'abbiamo superato il minimo da qui è partito adesso bisogna vedere in base appunto all'inverso quando ha voglia di scendere perché nella realtà dei fatti può continuare teoricamente a salire fino alla 44esima barra che arriverebbe oggi alle 14.15 in media sappiamo che un ciclo inverso giornaliero inverso dura 32 barre fino alle 11.15 e che è il target classico di attesa è questo questo ci porterebbe a violare degli swing particolari che ci direbbe o quanto ancora si può salire o quanto poco durerà questo rimbalzo? la risposta nel premium per quanto riguarda il MIB situazione molto simile ok? rimbalzo molto corposo anche qui nessuno swing particolare violato ovviamente uno swing importante è questo a 28.161 segniamocelo 28.161 86 ok swing per nuovo ok così vedremo che cosa sarà per nuovo mensile per nuovo settimanale per nuovo bisettimanale per nuovo anche qui il target per la salita ovviamente è questo poi i livelli di algoritmo e attenzione anche al fatto che stessa misurazione che facevamo dalle altre parti vedete qua 26 barre passate le il minimo le barre minime di durata della salita 24 si può arrivare a 32 44 al massimo avevo disegnato proprio nell'analisi weekly dove potevamo andare a salire non a scendere ok e che poteva non essere finita lì e quindi come di consueto se andate a vedere tra gli oltre tra gli oltre 2400 video che faccio praticamente quotidianamente anche se dovrebbe essere vacanza trovate MIB e DAX e potete andare a controllare quando ho tracciato queste linee e queste aspettative che sono già state pienamente rispettate dire che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così mettete un bel like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto intanto è gratuito cliccate sulla campanella se volete essere i primi a sapere quando uscirà un nuovo video e quando ci saranno le novità per le collaborazioni che inizieranno a partire da settembre grosse interessanti che copriranno tanti ambiti del trading arrivederci